Benvenuti amici, io sono Salpimpost, oggi siamo su Mostes Lab, andiamo a creare mostri Iniziamo con questo esserucolo all'interno della vasca, ma potremo creare, se non sbaglio, anche vari aghiuaghi, eccetera, eccetera Quindi, vabbè, iniziamo con questo esserucolo qua, che ti è successo, tizio? Aspetta, aspetta, non partire a raggio, che cos'è? Allora, si è trasformato le gambe? Piano, fammi capire qua, allora, dobbiamo prendere le cosine verdi, evitare tutto ciò che è rosso Dopodiché, mi trasformo Che brutti esseri, fate, ecco, adesso sono non so chi, però sono più incacchiato di prima, prendiamo a cazzotti mezzo mondo Oh, sono arrivato, quelli sono gli scienziati, oh, perfetto, 10, 20, 30, oh, guarda là Mi sono trasformato in qualcosa di più potente Next, vediamo se possiamo trasformarci in qualcos'altro Andiamo avanti, forza, andiamo a trasformarmi Evitiamo i barili qua di cose radioattive Eh, pedana Pedana, ok Verde, e mi trasformo in In Siren Head Mi trasformo in Siren Head Prendo tutti a colpe di Siren Head Della mia testa Oh, ok Saltino E via Quelli li ho liciati tutti Prendiamo un mutageno, prendiamo un mutageno Clash Che cos'è? Tap Prendiamo a pugni l'uomo corvo Oh, fatto Ritornate nel tuo mondo, brutto esso Gnumostra all'Octe Oh, abbiamo sbloccato Aghiwaghi, ragazzi Next Vediamo se possiamo equipaggiarlo Cioè, più che equipaggiare Penso si fa automaticamente Quindi adesso possiamo trasformarci in Aghiwaghi Prendiamo mutageno Tanto mutageno qua che fa Mi comincio a trasformare in Aghiwaghi, infatti Eppure mi ingigantisco Attenzione Guardami qua Quanto sono Che è? Mi è finito il potere Ma come mi è finito il potere? Eccomi Sono Aghiwaghi Adesso vi prenderò tutti a testata E vi mangerò tutti No, vabbè, gioco fighissimo Gioco dell'anno Mi trasformo Mi ingigantisco Gioco dell'anno Gioco dell'anno, ragazzi Guarda lì quanto sono grosso Chi sfido? Nessuno Vabbè, niente 10, 10, 10 Io voglio il boss Guarda lì là Tutto fiero di me Per essermi trasformato in Aghiwaghi New part all'Octe Abbiamo sbloccato il braccio destro Vabbè Allora, next Vediamo un po' Chi sblocchiamo adesso? In cosa mi trasformo? Via Tanto mutageno Tanto mutageno Verde Mutageno Non mi sciottare tu Non mi sparare da lontano Facci di ca... Ah, ti suicidi Beh, perché sai con chi hai a che fare Hai a che... Una chiave Mi sto ritrasformando in... Nell'essere di prima Ecco Mr. Lucertolo Non mi sparate Brutti esseri Dove prendere il mutageno Si suicidano pure Destroyed Non ho fatto tanto Boss fight La testa lì è già saltata E via Ti ti sciotto l'anima Ok Io volevo combattere con Aghiwaghi però Che è sta cosa? Che devo... Devo impersonare sempre l'uomo scimmia qua Allora via In che cosa ci trasformeremo mai adesso? Livello 5 Abbiamo pure la lava Che cos'è? Che... Che l'uomo scimmia veramente Mi si sono allungate le braccia Mutageno Tanto mutageno Fammi capire In che cosa mi sto per trasformare Tu vattene via Vattene a casa Che devo trasformarmi Mutageno Ah, in Sarened Nuovamente in Sarened Via Via Verso nuovi orizzonti E verso l'uccisione degli esserucoli Ok Adesso voglio trasformarmi in Aghiwaghi E voglio combattere il boss Vi mangio Che... New part Ah Guardalo là Abbiamo Bendy Grande così Next Avanti su Fatemi... Dobbiamo sbloccare tutte le parti Però per trasformarci in Bendy Forza Cominciamo Aghiwaghi Via Brutto essere Oh Muro distrutto Voglio trasformarmi in Bendy E distruggere tutta la città Chiave Mutageno Mutageno Mi mancano le braccia Trasformazione in braccia E... Adesso affronteremo il boss Perché vedo lì il portale Affronteremo Sarened addirittura Portale Sarened contro Aghiwaghi Chi la spunterà? A cazzotti A cazzotti E la spunta Aghiwaghi Ovviamente Sarened Non può fare nulla Contro di me Andiamo al prossimo Vai che ci sblocchiamo Bendy Forza Forza tizio Trasformati più velocemente Però Ok Braccia Boom E vi mangerò tutti Io sono Sarened E vi mangio Ok Gambe E... Ok Sarened Sarened Aghiwaghi E... Lucertolone Questi ci sono sempre Poi sbloccheremo Bendy Non so quanti mostri ci siano in totale Però Non penso Tantissimi Intanto prendiamo sto mutaggio 10 10 10 Forza Vieni qua Votatemi 10 10 10 Ok Già Vi mangerò tutti Ok Forza Mi mancano due pezzi L'abbiamo sbloccato Next Andiamo al prossimo Veloce Veloce Tizio Trasformati Che è? Soldini Mi trasformo tutto adesso No Sempre Mr I soldini Mr Mr Soldino Mi trasformo Mi trasformo in Mr Soldino Ok Tanti soldi per me Il costume pieno di soldi Le gambe mi mancano Eccola Ok Ecco Sono un mucchio di banconote Vacanti Vieni qua Ti prendo a pugni Vieni qua Brutto essere Ok Tanti soldi per me Mi ci butta a capofitto Mi mimetizzo anche In mezzo a tutto il mucchio di soldi Ok Abbiamo Le tre chiavi La nuova parte Chest room Vediamo Oh Best Price Cos'è un altro Un pezzo di costume Allora che mi prendo qua Soldi Ovviamente Il best price Io non lo otterrò mai Mai nella vita New part All'hoc Della gamba L'ho trovato Ho trovato la gamba Dell'esserucolo Va bene così Next time Cerchiamo di sbloccare Bendy Veloce Gambine per me In che cosa mi trasformo In Aghiwaghi Ok Vieni qua Brutto essere Vi spacco le faccine Ok Via Mutageno Mutageno Ok Aghiwaghi Ti spacco la faccina Chiunque mi sbarri la strada Lo asfalto Lo prendo A testate Vieni qua Brutto essere Faccia di capra Ok Le ho dette tutte Il mio repertorio Ok 10-10-10 Nice Guarda 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 Ok Next Abbiamo sbloccato Bendy Ancora no Ancora no Forza Andiamo al prossimo Nelio 10 Gambe per me Gambe per me Tante gambe per me Ok Saltellino Boom Tanto mutageno Ok Chiave E prima chiave L'abbiamo presa Forza Forza Non so quanti mostri Io voglio sbloccarmi Tutti i mostri Ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se avete già provato il gioco Ovviamente si Perché Praticamente In tutti gli altri giochi Lo vediamo tramite pubblicità Vi è Bendy Ti spacco la faccina Praticamente È sponsorizzatissimo Sto gioco Ok L'abbiamo sbloccato No Manca il braccio Ancora Il braccio sinistro Andiamo Andiamo al prossimo Allora Veloce 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 Che voglio sbloccarmi Tutti i mostri Di questo gioco Ok Braccia Ok Vieni qua Tizio Ti asfalto tutto Ti Vi prendo Vi stritolo Vi stritolo Brutte facce di capra Ok Busto e testa Aghiwaggia La riscossa Mutageno Gambine Di Aghiwaggia Adesso sono completo E adesso vi spacco le faccine Venite qua Sono un po' Un po' Non lo so Rimbambito Però Arrivo lo stesso Oh Autosom 10 10 10 Il balletto di Aghiwaggia Fatto New monster Allo Andiamola a provare Ovviamente Dovrebbe selezionarsi Tutto automaticamente Giusto Credo di sì Credo di sì Allora Forza Trasformiamoci in Bendy Ragazzi Andiamo a mangiare qualcuno Eccomi Guarda lì Suicidatevi Perché contro Bendy Non potete fare niente Sappiatelo Sappiate Non mi sparate Dalla distanza Chiave per me Chiave Ok Braccia Braccia di Bendy Non mi sparate Brutti esserucoli Suicidati Brutto esser Ok Tanto mutageno per me E via Un Bendy Contro Un mister senza testa Perché la testa La faccia Ce l'ha sul Sul petto Probabilmente Lo sbloccheremo anche Andiamo a livello Quanto? Livello Un 13 Forza Gambe per me In che cosa mi trasformerò mai? In In Bendy Sempre in Bendy Ok Gambe Vieni qua Vi spacco le faccine Ok Braccia Le braccia di Bendy Che magrolino che sei Bendy però Mangiatelo un po' più di pasta al forno Nella vita Capisco che tu mangi solo Essere vivi Però Un po' di pasta Nella vita ci vuole sempre Ok Livello 13 Completato Tanto mutageno Quanto mi date Serucoli 10 10 10 Sempre 10 10 Hanno lo stesso cartellone Praticamente Va bene così New part Allot Chi è sto tizio qua? Che sei brutto Ok Andiamo al prossimo Livello 13 Completato Andiamo al livello 14 Forza Che poi arriviamo al boss In che cosa mi trasformerò mai? In uomo lucerto Ah si Perché giustamente Da tanto che non mi ci trasformo Brutto essere Mori Morici Morici Gambe per me Una chiavina Ok Ho lisciato un mutageno Ok Eh Lo prendo Braccia per me Mutageno Ma posso eventualmente spaccare Le mura? Io prendendo la testata Credo di no Un aghiwaghi Oh Uomo lucertola Contro aghiwaghi Chi la spunterà? Ovviamente L'uomo lucertola Io Ovvero Ovvero Ok Un nuovo braccio Braccio sinistro Quello sembrava il grinch Chest room Oh vediamo Che figo è questo Allora vediamo Adesso non troverò la parte Sicuro Soldi Soldi La parte non la trovo Trovata Trovata E ho sbloccato la gamba sinistra Dello Yeti Praticamente Oh finalmente un gioco Dove apriamo le chest E troviamo le parti Di skin E cose varie Ed eventuali Anziché trovare sempre soldi Sempre e comunque Allora brutto essere Vieni qua Perché contro Bendy Al solito Non avete nulla da fare Nulla Di che spartire Ok Mutageno per me Eh Braccia Braccia Tante braccia per me Due Dicono Vabbè L'importante è crederci Ok Altro mutageno Bendy Bendy Prendiamo a testata La gente brutta e cattiva I power Sembrano power ranger Questi Invece sono gli scagnozzi Dei Non lo so Di chi fa I test Sul mio corpo Ok Forza 10 10 10 Mi danno gli scienziati Andiamo al prossimo Livello bonus Tanti soldi per me Mi trasformo in In uomo lucerto No in soldi Giustamente Soldi 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 Quanti soldi Mi mangio tutti i soldi E me li vado a spendere al supermercato Perché Ti ho tanti soldi Viva come un paccia E io vi prendo a testata Viva i soldi Ok Soldi Vai Tanti soldi per me Prendiamo a testata E gli scagnozzi Fatto Fatto Arrivo alla montagna di soldi Mi limetizzo nel mio trono Ok Andiamo al livello Quanto Livello 16 Completato Andiamo al livello 17 Dobbiamo trasformarci In che cosa Vediamo Vediamo Eh Uomo lucertola Sempre Sempre Uomo lucertola Ok Vi siete abbonati Con l'uomo lucertola Ok Busto E testa per me Venite qua Perché vi sgranocchio Le testoline Sto sappiato Che Giocherò a Shanghai Con i vostri corpi Ok Vieni qua Tizio Boom Ok Ecco Investi i barilotti Qua Tanto mutaggiano per me Fatto Perfetto 10 10 10 Andiamo al prossimo Livello 17 Completato Parte sbloccata A me questo sembra il grince A me questo Questo è il grince Andiamo al prossimo Next Una chiave per me E le altre che fine hanno fatto Ve le siete mangiate Ok Adesso mi trasformerò In bendy E via che saltino Saltino Ma Aghi uaghi Perché non me lo date più Eh Testa e busto Oh Una chiavina Grande così Vieni qua Venite qua Perché contro bendy Non avete proprio nulla da fare Brutti scienziati Malefici dello schifo Vi spacco le testoline Monster jump Che abbiamo lì L'alieno Prendiamo a cazzotti Gli alieni No vabbè Abbiamo un casino di mostri Effettivamente Allora New part unlock Abbiamo sbloccato Quello che mancava Mi mancano le due gambe Forza Dobbiamo provare il grince Ragazzi Assolutamente Forza Andiamo al prossimo E via Adesso mi devo trasformare In ranghi Giusto No Sempre un uomo lucertola Mi sono abbonato L'ho lisciato Mi sono abbonato Con l'uomo lucertola Tac Tac Via Ok Gambe per me E via Ok E Braccia Ma se prendo Ah Se prendo quello rosso Praticamente mi toglie le braccia Nel senso che Avrò meno forza Di qua che arrivo Al boss Ok Vabbè Noi cerchiamo di prenderle Le porte verdi Ok Quanto vi date 10 10 10 E li mangerò Tutti Ok Next Mi manca l'ultima chiave Forza Datemi sta chiave Trasformazione In chi? In aghi E da tanto E non mi date aghi Spacco tutto Invece In serenade Buttati che è morbido Ok E Testa Busto Chiave Oh Finalmente abbiamo tutte le chiavi Andiamo a vedere Cosa sblocchiamo Gambe per me Mutaggio Non mi sparare Faccia di moscerino Malefico Ok Livello 20 Completato Un serenade Contro aghi Aghi Ti spacco Tutta la faccina E fatto Oh Fatto Fatto Ok Mi manca solo la sinistra La destra La sinistra l'avevo appena presa Ok 3 Chest room Vediamo che parte dello yeti sblocchiamo Sempre se lo sblocchiamo Soldini Altri soldini Altri soldini Stavolta niente parti Taccagni come le scimmie Veramente Allora Forza Andiamo Andiamo Che dobbiamo affrontare il boss Livello 21 Andiamo Mi trasformo sempre in uomo lucerto Sempre l'uomo lucerto Aghi uochi che fino a fatto Andate in pensione E via Uomo lucerto Vi mangio Vi mangio il sederino Prima vi sgranocchio la faccia E poi vi mangio il sederino Ok Tac Tac Tutto mio Tutto mio Che Vi siete arresi Ecco un'altra Via Ritorna Tene tra gli scienziati Fatto Quanto mi date 10 Quello era indeciso Brutto essere L'indecisione Lascia A tua sorella Next In chi mi trasformo Datemi aghi Da tanto che non faccio aghi Niente Non mi date più aghi Che brutti esseri però Allora Niente Sarened Abbiamo sempre Sarened Per adesso Ci siamo abbonati a Sarened Boss Che cos'è Che Che cacchio è sto Vieni qua Qualunque cosa tu sia Muori Cuccellaccio Malefico Sbloccato New monster Locked Andiamo a provare il Grinch Forza Forza Proviamo il Grinch Grinchino Vieni qua Vediamo Braccia il Grinch Oh Vediamo un po' Braccio Ok Vieni Io sono il Grinch Vi rovino il Natale Non siamo a Natale Ma chi se ne frega Ve lo rovino in anticipo Allora Eccomi là Fiero di me Della mia possenza Ok Datemi le gambe Per favore Sono completo Adesso sono un Grinch Completo Vi prendo a testate Io vi rovino il Natale Oltre alle faccine Ve le graffio Proprio Stile gatto Ok Eccomi qua Livello 23 Completato 10 10 10 Guarda là il mio Grinch Ok New part Andiamo avanti Per adesso Livello 23 Completato Andiamo al 24 Forza Volus level Tanti soldi Per me Mi trasformo In banconota Man Ok Testata Cazzo 8 Più che altro Se prendo il barilotto Caduto Non succede niente Gambe per me Chiave per me Testata Boom Soldi Se prendo il barile Io ho paura Di scoprire le cose Che possono succedere Nel momento in cui Vado a fare Determinate altre cose Guardate lì Le lezioni di vita Che do oggi Ok Soldi per me Tanti soldi per me Andiamo al prossimo E vi mangerò pure Tutti In stile soldi Mi manca L'ultima chiave Forza Andiamo al livello 25 Forza Vediamo in che cosa Mi trasformerò mai adesso Sempre il Grinch E da tanto Non faccio aghi Non mi danno più aghi Aghi se n'è andato Da sto gioco Allora niente Facciamo sempre il Grinch E non mi danno più Nemmeno Bendy Che cos'è Che cos'è Da questa Da questa Mancanza di mostri Gambe per me Se prendo un barilotto Non succede niente Se prendo il barile Niente Non succede proprio niente Ah mi scala un po' Ah mi scala la vita Capito Superb Forza 10 10 10 Vi mangerò pure il Natale New partallo Che cos'è L'omino Michelin Questo lo voglio Voglio l'omino Michelin Allora Forza Andiamo Andiamo al prossimo Che cosa mi trasformo Saraned Bendy Oh finalmente Bendy Però aghiwaghi Non mi danno più Adesso mi danno sempre gli ultimi Che ho sbloccato Però aghiwaghi Chiave Aghi non mi danno più Allora Mutageno Verde Porta verde Ok E via Forza Altino E prendiamo Più montaggino possibile E Forza Bendy contro aghiwaghi Chi la spunterà Prendiamo A cazzotti aghiwaghi E via Mi ha fatto gli danni Con un pugno che mi ha dato Brutto essere Tre chiavi per me Oh Vediamo se riusciamo a Trovare Che cos'è Che cos'è L'uomo vespaio Ok Soldini E Soldini Dov'è il pezzo di uomo vespaio Trova No Trovato manco per niente Peccato Next time Andiamo al prossimo Allora Niente Andiamo al prossimo Forza In che cosa mi Datemi aghi Che da tanto Che non lo faccio Che cos'è Siren Head Sempre Siren Head Quello l'ho lisciato Sono troppo grosso Non vedo Che è Già la gente si è suicidata Prima ancora che io arrivassi Giusto Mi sembra corretta come cosa Ok E via E via Vai Siren Head Prendi tutte Assinerate in faccia Mi raccomando Assinerate in faccia Assinerate in Ah perché li investo Con i loro stessi compagni Ci muoiono Buono Meglio così Allora quanto vi date A questo Siren Head Magrolinissimo Ok 10 10 10 Forza Andiamo al prossimo Io vorrei vedere la faccia New part unlocked Vabbè Andiamo al livello 28 Forza Sono troppo forte Sono un mostro troppo forte E vi distruggerà Chiave Chiave Vi distruggerà pure Non so che Pure Le mutante che avete a casa Ve le strappo Ve le strappo proprio Ve le andate a comprare di nuovo Ok Eh Fatto Aghiwaghi Lucetto Lone Man Contro Aghiwaghi Attestata Attestata Pugna Pugna in bocca Ok Ok Eh Niente New part Al prossimo Facciamo Io vorrei vedere la faccia Di quell'esserucolo là Che dovremmo sbloccare Gambine Lava Tanta lava Oh finalmente è tornato Aghi Mi sei mancato Aghi Dove sei andato in vacanza Ok Braccia per me Perfetto Braccia E via Questo lo ammazzo Ok Testa e busto Eh E lì Che abbiamo Abbiamo il boss No Abbiamo semplicemente i giudici Niente Niente da fare Prendiamo un utaggio Ok Io volevo uccidere qualcuno Con Aghi Manco Manco sta cosa Mi fanno fare Ok Vediamo la parte Le gambe La testa Non me la fanno vedere Ci siamo fatti Ben 30 livelli Ragazzi Facciamoci anche il bonus Così completiamo in bellezza Via di Bendy E spacchiamo le mura pure Ok Tattattattattattattattata Busto e testa Chiavina Eh Eh E via Tac È morto Prendiamo qua Prendiamo qua Mutaggiano Mutaggiano Oh Pio il boss Chi è Ah niente Il grinch Il grinch Ce l'ho già Non mi dire che Già abbiamo finito i mostri Grinch Ti spacco la faccina Contro Bendy Non potete fare nulla Sappiatro Fatto La testa Non me la fanno vedere Come siete Brutte persone però Livello 30 completato, ci manca il bonus level E abbiamo terminato praticamente anche questa sezione Via, anzi no Prima del bonus level abbiamo il livello 31 Vabbè facciamolo, chi se ne frega Io vorrei vedere la testa Io vorrei vedere la testa Dell'omino Michelin Forza Gambe, gambe per me Ok Boom Testa e busto Fatto Stavolta siamo nuovamente il pesce man Qua Forza Che abbiamo niente, i giudici Tanto mutagero per me Fatto 10, 10, 10 Greet Avanti, su Forza che io sono troppo forte Guardami là Allora New part ancora non ce l'abbiamo Però abbiamo il bonus level Forza Andiamoci a riempire di soldi Soldi, soldi, soldi Tanti soldi per me E via Mi trasformo in Banconota man L'ho inventata io Questa nuova trasformazione Banconota man Vi renderò tutti ricchi Chiave per me Vi renderò tutti ricchi Il nuovo supereroe del 2022 Banconota man Ci renderà tutti ricchi Che bello Ok Eccomi qua Sono arrivato Sono arrivato Forza Nivelo 32 Completato Vediamo se riusciamo a vedere la testa Di quell'esserucolo lì Riusciamo a vedere la Oh New part non c'è Abbiamo le chiavi Le tre chiavi Vediamo Vediamo se riusciamo Che cos'è sta a fare qua Chiave Soldini Chiave Soldini Chiave Soldini Niente Le parti o me le danno più Meglio così Guardate quanti mostri Pensavo ce ne fossero meno Ecco la faccia la vediamo qua Partiamo Sembra il fantasma Di acchiappa fantasmi Quello gigantesco Non so se ce l'avete presente Comunque Mi raccomando Se il video vi piaciuto D'accento un bel like Iscrivetevi al canale Se qui siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Brawl Stars Nuovo aggiornamento Con due nuove Perché sono femminucce Brawler Che arriveranno Alla prossima stagione E tra l'altro manca pochissimo Quattro giorni Quattro giorni e venti ore Per la precisione Grazie mille e venti ore